Senta Zibano, un po' questa sorpresa della parte italiana alle dichiarazioni su Twitter di Macron dove ha detto che bisogna distinguere gli immigrati, sembra che abbia detto qualcosa di chissà, che fantascientifico. No, è tutto in linea, è assolutamente in linea. Nel senso che è da due anni che l'Unione Europea sta prendendo letteralmente in giro l'Italia e sta continuando a farlo, perché le aperture di Macron di due settimane fa, quando giustamente lui sottolineava quello che noi affermiamo sempre, quello che noi a Gorizia constatiamo con dati non di Ziberna, non del Comune, con dati della Prefettura, cioè noi abbiamo sempre sostenuto che l'80% degli immigrati qui presenti a Gorizia, dei richiedenti asilo qui presenti a Gorizia in realtà sono di risulta, di rimando, cioè persone che vengono dall'Austria, dalla Germania, dalla Francia, dal Belgio, persone che hanno chiesto lì, hanno presentato lì la domanda di riconoscimento appunto di istanze di profugo, asilo politico, non l'hanno tenuto e adesso l'hanno presentato qui, ecco la ragione per cui noi chiediamo la modifica di Dublino 3. Macron è giunto a nostre stesse conclusioni, perciò dice bene Italia, ottimo allora, quando il governo italiano ha detto bene a questo punto noi chiudiamo i nostri porti, la Francia ha detto i nostri non li usate proprio, perciò è coerente, finora l'Europa ha letteralmente preso per i fondelli l'Italia. La Grecia ha chiesto 3 miliardi di euro all'anno per non alzare l'asticella della tratta balcanica, della rotta balcanica, da parte nostra invece grande soddisfazione quando ci sono 40, 50 milioni, 60 milioni, 70 milioni di euro, quando in realtà siamo tutti consapevoli che il costo dell'immigrazione in Italia ormai ha traguardato i 4 miliardi e 700 milioni di euro, perciò ripeto, ha fatto alcuna meraviglia, sempre la stessa cosa, pacca a sua spalla, sì sì poveri avete ragione, sì sì poveri avete ragione, non un becco di un quattrino, ordini dovete andare a prenderli, sconcertante perché ogni anno, ogni anno sempre più vicino alla costa libica si vanno a prendere i richiedenti di asilo, si portano qui e sono un problema dell'Italia, non dell'Europa. Ma cosa pensa della dichiarazione di Di Maio che insomma abbiamo visto in Inter dove lui ha detto abbiamo visto che alla fine in cambio di un po' di flessibilità l'Italia si è impegnata a prendersi praticamente tutti appunto, perché è di asilo, che è di stile o comunque immigrati nei porti italiani e non sbarcarli negli altri. No no, piano piano piano, da nessuna parte c'è stato scritto che a fronte di noi prendevamo questo, da nessuna parte, perché diversamente avremmo dovuto trattare, perché flessibilità significa che l'Europa non dà quattrini all'Italia, flessibilità significa che si rende elastico uno strumento. La Grecia, la Turchia ha chiesto e ottenuto 3 miliardi di euro, perciò io credo che se l'Europa dovesse dare 3 miliardi di euro al nostro paese parliamo da questo punto delle condizioni di cambio. Perché non vanno in Spagna ad esempio? Perché la Spagna ha fatto, perché l'Unione Europea e la Spagna hanno stipulato degli accordi, contratti con il Marocco e il Marocco li intrattiene. Oggi dobbiamo prendere atto che non è più possibile consentire a queste barche di lasciare le coste libiche. Ormai con i satellite, un satellite è in grado di vedere agevolmente il titolo di un quotidiano se io lo sto leggendo. Non ditemi che non è in grado un satellite di accorgersi quando parla di questi barconi, perciò i satelliti senza dubbio sanno, sono consapevoli di quando partono. Tanto consapevoli che laddove siano un po' distratti, ci sono le telefonate con i cellulari internazionali per avvisare le navi, le imbarcazioni, guardate che stiamo per portare degli immigrati. Eppure Berlusconi fece l'accordo con la Libia anche proprio per questo, e quindi in realtà l'accordo è soltato perché altri hanno voluto poi in nome della democrazia bombardare. Grazie a quell'accordo con la Libia, anziché 180.000 quanti erano al 31-12 dello scorso anno, 250.000 saranno orientativamente quest'anno, quella volta c'erano 2.000. Poi tutti criticavano, contestavano, ironizzavano sull'amicizia tra Berlusconi e Gheddafi, amicizia a rapporti tra due capi di Stato, cioè tra due capi di governo. La dimostrazione è stata che quando questa Europa ha dovuto piegarsi agli interessi inglesi, francesi e statunitensi, l'Europa, il nostro paese non ha potuto dire di noi in quelle circostanze, ma quando uno fa un danno deve sapere che ci sono delle conseguenze. Si pensava che tolto Gheddafi ci sarebbe stato un governo democraticamente eletto, non è stato così. Oggi anziché parlare con un governo siamo costretti a parlare con bande di ladroni nel vero senso della parola. Sono bande di delinquenti. In Libia, capiamoci, ci sono alcuni, non due, addirittura più di due governi che si dicono noi siamo i più rappresentativi e poi abbiamo in realtà quelli che comandano il territorio, che non sono questi stati, questi governi, ma sono delle bande, nel vero senso della parola, che si sono suddivise il territorio libico. Ultima parola, quel prefetto lei si è incontrato, spera che le promesse vengano mantenute? E' una squisita persona con il mio prefetto, abbiamo parlato in modo estremamente franco, io ho spiegato al prefetto che la mia azione si inserisce nel solco di quella di dieci anni di governo Romoli e abbiamo apprezzato comunque l'intervento del prefetto dove possibile, proprio nel portare via quelle quote eccedenti di immigrati nella nostra città, però noi insistiamo su un aspetto, secondo l'obbligo morale che i comuni hanno nei confronti di ANCI nazionali, laddove si è deciso che ogni comune dovrebbe accogliere 2,5 richiedenti asilo ogni mille abitanti, ecco in base a questa suddivisione Gorizia è pronta ad accogliere 90, tutti 90 senza non uno di meno, però noi abbiamo una media di 300, oggi siamo sui 350, 360, abbiamo anche traguardato i 500, converrete perciò che non è giusto, non è possibile che una comunità piccola, poco attrezzata come quella di Gorizia si faccia carico di tutte queste cifre, ecco il motivo per cui ho chiesto che è l'ovvio, un buon senso, che non ci sia soltanto una commissione territoriale per fettizia, quella per il riconoscimento dello stato di rifugiato, oggi ce n'è una sola a Gorizia, ma ogni provincia dovrebbe ospitarne una, in attesa di un intervento legislativo o un intervento del governo per istituirne altre tre, in attesa io direi che è oltremodo necessario, opportuno, urgente che questa sede sia trasferita in un'altra città che è più strutturata rispetto a Gorizia.